Nei due giorni, 7-8 marzo, l'Istituto Comprensivo Iapigio 1 Verga di Bari ha ospitato per la terza volta consecutiva i campionati territoriali della RoboCup Academy di Puglia, quest'anno alla sua non edizione. Siamo scuola capofila di questa rete regionale che si è costituita tre anni fa e ogni rete regionale fa capo alla rete nazionale. Quest'anno la scuola capofila è una scuola di San Giovanni Valdarno in Toscana dove si svolgeranno poi le esibizioni, o meglio le gare nazionali che daranno poi accesso agli europei e ai mondiali. Alla competizione hanno partecipato 31 squadre appartenenti a 67 scuole del territorio regionale. Alle 9 di questa mattina i ragazzi della categoria Rescue Under 14 e Under 19 hanno aperto le danze con fantastici robot e macchine cibernetiche da loro realizzate e valutate scrupolosamente dalla giuria. Nel pomeriggio in pista alle ore 15 si sfideranno i ragazzi della categoria On Stage Under 14, nonché studenti della scuola ospitante. Abbiamo chiesto loro di illustrarci i progetti con i quali parteciperanno alle competizioni. Questa programmazione l'ho utilizzata per le gare di robotica e consiste in questo balletto. La programmazione l'ho fatta sul mio computer e poi l'ho trasferita tramite una microSD presente sotto il robot sul tablet e quindi il tablet legge tutte le programmazioni che stanno su questa microSD e quindi poi le legge automaticamente e io posso azionarle. Abbiamo programmato questo EV3 con due sensori oltre a suoni che possono essere utilizzati sia per il seguilinea e anche per percepire i suoni. Noi quest'oggi balliamo sulle note di l'estate addosso, canzone di Giovanotti. Nella canzone spesso si vedono le stelle d'estate e quindi noi abbiamo deciso di riprodurle con la scheda Arduino. Si attivano tramite due sensori di movimento PIR e alcuni LED si possono accendere in contemporanea. L'iniziativa ha dato la possibilità agli studenti non solo di costruire simpatici robot ma ha anche contribuito alla costruzione del futuro. Sicuramente sì, ieri abbiamo inaugurato questa terza edizione con un convegno che va proprio a questo tema, cioè abbiamo invitato delle aziende del territorio, delle aziende veramente grandi sul campo della robotica. Sono aziende che ci hanno dato contezza di quanto queste competenze che i ragazzi acquisiscono con la robotica siano competenze che poi servono sia nell'ambito lavorativo ma servono soprattutto nella vita. A fine giornata verranno decretati i vincitori che accederanno agli step successivi del torneo, campionati nazionali, europei e mondiali.